Tutte le aziende piccole, medie e grandi soffrono il settore edile al collasso come più volte ripetuto dall'ACEM. Trovare le misure diventa difficile per contrastare una crisi devastante. L'API, l'associazione della piccola e media impresa, nella sua sede a Campobasso ha messo intorno a un tavolo i vertici della FIM Molise e quelli delle associazioni di categoria per un confronto e per conoscere nel dettaglio le misure che la stessa finanziaria regionale è attualmente a disposizione per le aziende, in particolare per favorire l'accesso al credito, come hanno spiegato l'amministratore unico Carlo Veneziale e il direttore Lorenzo Cancellario. La FIM Molise è vicina all'imprenditoria molisiana, oggi parliamo in particolare di quella del settore edile, ma il concetto può essere esteso in assoluto. La FIM Molise è vicina a questi imprenditori attraverso una serie di misure che sono attualmente a disposizione, che sono sostanzialmente misure che agevolano l'accesso al credito. Stiamo lavorando per verificare la possibilità insieme con la struttura di creare nuove forme di assistenza, ma inevitabilmente un po' di tempo sarà necessario. Il fondo attualmente a disposizione supera i 20 milioni di euro, è naturalmente un fondo di garanzia e quindi l'inevitabile sinergia con il mercato bancario è alla base di questo tipo di operazioni. Quattro dunque le misure illustrate a coordinare gli interventi. Stefania Iosu è presidente dell'Associazione della piccola e media impresa del Molise, per la quale è comunque necessario uno sforzo comune per uscire dalla crisi. Le aziende cercano in qualche modo di reagire a questa crisi e hanno bisogno di soprattutto credito per poter effettuare ulteriori investimenti nella propria azienda, proprio per rilanciare le attività e rilanciare anche l'economia regionale. Lei crede che queste misure che sono state illustrate da Fim Molise siano utili e possano bastare per risollevare la situazione? Sono sicuramente utili, forse non sufficienti. C'è necessità sicuramente di qualche altra manovra aggiuntiva da parte del governo regionale per dare un'effettiva spinta all'economia locale.